Fermerà i miliziani dell'M23. Nell'est del Congo spadroneggiano e terrorizzano, appoggiati sempre più apertamente dall'esercito del vicino Rwanda, dove Kagame, da 30 anni al potere, è stato appena rieletto con il 99% dei voti. Goma, Beni, Butembo, le principali città del Nord Kivu sono ridotte a immensi campi profughi. Milioni di persone sono fuggite dai villaggi razziati e incendiati dai guerriglieri del Movimento 23 Marzo. La tregua, mediata dagli americani a inizio mese, non regge. Ieri quattro morti, due bambini e due ragazzi, e diversi feriti per un bombardamento vicino a Goma. Sostenuti dal Rwanda, quelli dell'M23 stanno conquistando zone sempre più vaste del Nord Kivu. Perciò i soldati della missione ONU devono restare, dice una ministra degli esteri congolese, Kaik Wamba Wagner, che accusa il Rwanda di alimentare una delle più grandi crisi umanitarie al mondo, oltre 7 milioni di sfollati. Questa provincia del Congo è ricca di tungsteno, cobalto, stagno, e il governo di Shisekedi accusa multinazionali come Apple di usare nei loro prodotti minerali contrabbandati in Rwanda dall'M23.